Mi scusi, vorrei comprare delle bottiglie di vino speciali per fare buona impressione sui miei bambini. Ma non è per bambini. Ogni anno, i figli di Frank tornano a casa per le feste di Natale. Papà, non riesco a liberarmi questo weekend. Ma quest'anno tutti hanno altro da fare. Non ce la facciamo a venire questo weekend. E nessuno dice il perché. Mi dispiace, papà. Certe volte, l'unico modo per scoprire la verità è andare a cercarla. Hanno tutti qualcos'altro da fare, quindi sarò io a far loro una sorpresa. Vado a trovare mio figlio. Molto bene. Lo sa che fa. Non ne ho la più pallida idea, grazie. Il prossimo. Che ne pensa della mia opera? La sta guardando da quando abbiamo lasciato la stazione. I cavi. Ho tirato mille chilometri di cavo alla settimana senza fermarmi per i miei figli. Un milione di metri per farli arrivare dove sono oggi. Oh mio Dio. Ma guardati. Vieni, nonno. Ah, c'è il manico. Certo che c'è il manico. Non è possibile. Sorpresa. Ma che ci fai, Ducco? Sono venuto a trovare mio figlio, il direttore d'orchestra. Ciao, papà. Durante le feste di Natale. E tu vivi qui? No, questo è un ascensore. Molto bene. Non sai usare le bacchette? Ti piace prendermi in giro, vero? Sì, sei buffo. Sì, sono buffo. Il viaggio che non si sarebbe mai aspettato di fare. Non ho mai detto di essere un direttore d'orchestra. Ma il tamburo? Che succede? Che cosa mi nascondete, tu e gli altri? Non so che cosa dirgli. Diventa proprio quello che serve alla sua famiglia. Non so che avete, ragazzi. A vostra madre dicevate sempre tutto e a me niente. Ti diciamo le belle notizie e non quelle brutte. D'ora in poi ditemi anche quelle brutte. La mamma diceva, rendi orgoglioso tuo padre. E tu non sei orgoglioso di me. Non è vero. Certe volte prendo il telefono per fare il numero della mamma, poi mi ricordo. La prossima volta fallo il numero è sempre lo stesso e ci sono io all'altro capo. D'accordo. Ti sei chiuso fuori, tesoro. Ci abita mio figlio qui, lo sto aspettando. Vuoi vedere la mia gamba? Vuoi vedere la mia? Voglio che ci sediamo tutti alla stessa tavola. Come si faceva sempre a Natale. Più vicini, state più vicini. Che c'è? Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell. Perché tu sia felice sarò orgoglioso di te qualsiasi cosa tu faccia. Everybody's fine, stanno tutti bene. Sul serio? Sul serio. D'accordo. 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 Grazie a tutti